Ciao ragazzi, oggi sono in Sardinia, che è un'islazione in mezzo del Mediterraneo. Voglio andare oggi con voi a Alguero, che è una piccola città vicino di Sassari, che è nel nord della Sardinia. E' una bella città, bella città. E' anche qui nel summer, perché molte persone vanno lì per i freddi, per tutto il mondo. Ci sono molte piazze, molte restaurazioni e anche molte locali speciali, che voglio mostrarvi in questo video. Quindi, andiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ora siamo in giulio, qui, e in Sardinia ci sono 30 pezzi. E' molto caldo, ma sono anche le più belle cose, credo, qui in Sardinia. Perché, se vieni qui per i freddi, potete piacere. E' fantastico andare alle bellissime piazze, che sono in questa isla. Grazie a tutti! 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 dove in la Bronze Age, quindi da molti anni fa, c'erano le persone nativi qui nella Sardinia e loro si chiamavano le Chardane. Il nostro corso, il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.